Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi altro video a tema FIFA 22, infatti dopo settimane di rumors ieri sono stati rilasciati i ratings dei migliori giocatori di FIFA 22 e in più di alcune squadre affiliate a EA. Non solo, sappiamo anche il volto di tre delle nuove quattro icon che saranno disponibili sul gioco, che andiamo a vedere insieme a brevissimo. Prima però rileviamo la scelta da parte di EA quest'anno di non rilasciare il database in anteprima, ma dovremo aspettare l'effettiva uscita della web app stimata, come vi abbiamo detto nel video insieme a John, tra il 17 e il 21. Tutti potrebbero essere giorni buoni per vedere l'effettiva uscita della web app prima di sapere gli overall di tutti i giocatori del prossimo titolo. Comunque, senza perderci troppo in chiacchiere, io passerei a vedere i ratings perché già so che vi scatenerete nei commenti con il dibattito. Quindi eccoci qui, ci troviamo sulla pagina Instagram dei nostri amici di Foot Universe che sono sempre sul pezzo nel riportare questo tipo di notizie e vi dicevo i migliori giocatori. Infatti è stata rilasciata la lista dei migliori 22, visto che appunto ci affacciamo a FIFA 22 per celebrare l'uscita del gioco, e spicca su tutti i ragazzi Lionel Messi come giocatore top rated, quindi quello con la valutazione maggiore, 93 per lui. Rispetto all'anno scorso riceve un boost in velocità, quindi ha 85, 92 di tiro, 91 di passaggio, 95 di dribbling, 34 difesa e 65 di fisico per la pulga, che anche viste le intese che si fanno sbloccare con i vari giocatori di LPSG, ritornerà prepotentemente in tutte le squadre competitive, visto anche il suo eccezionale tiro a giro che come abbiamo visto dal primo video gameplay, sembra essere insomma un elemento chiave del prossimo FIFA. A sorpresa il secondo giocatore non è Cristiano Ronaldo, che andremo a vedere a brevissimo, ma è Robert Lewandowski, un attaccante che ormai nell'olimpo del calcio europeo da anni, in particolare negli ultimi due, che si consacra con un 92 di overhaul, 78 di velocità, 92 di tiro, 79 di passaggio, 86 di dribbling, 44 difesa, 82 di fisico. E anche lui, viste le rinnovate caratteristiche di FIFA 22, potrebbe effettivamente trovare spazio all'interno delle squadre, quindi potrebbe non essere più una carta semplicemente così da vendere nel momento in cui la si trova, ma potrebbe diventare anche una carta di gameplay. A sorpresa, vi dicevo, Ronaldo diviene il terzo giocatore, subisce un downgrade e ha addirittura 91 di overhaul, 91 di overhaul che si traduce anche in un decremento statistico, visto che abbiamo 87 di velocità, 93 di tiro, 82 di passaggio, 88 di dribbling, 75 fisico e 34 di difesa. Qui in particolare, onestamente, non me l'aspettavo, perché comunque è stato il miglior marcatore degli europei, ha battuto il record come miglior marcatore della storia nazionale, ha fatto un'ottima stagione comunque in Serie A. Questo downgrade è un po', diciamo, un elemento di sorpresa, però comunque le statistiche ce le ha tutte, Ronaldo sarà centro di tutte le squadre competitive e ovviamente anche di quelli che andranno a fare una Premier League, visto il suo passaggio al Manchester United, c'è anche la tripla intesa con Bruno Fernandes, quindi tanta roba, anche nell'ibridarlo si risolvono un milione di problemi. Kevin De Bruyne è il quarto giocatore, 91 di overhaul, ha praticamente le stesse statistiche dell'anno scorso, quindi si riconferma come uno dei migliori giocatori. Bappé riceve un più uno, invece, andando a pareggiare il suo compare Neymar, e questa, ragazzi, sarà una carta illegale. 97 di velocità, 88 tiro, 80 passaggio, 92 dribbling, 77 fisico, per quello che si candida a essere uno dei migliori attaccanti del gioco per praticamente lunghissimi periodi, fino ai toti, viste le caratteristiche che vanno a sposarsi perfettamente con il titolo di quest'anno. A fargli compagnia abbiamo Neymar, anche lui 91, quindi conferma il rating dell'anno scorso, 91 velocità, 83 tiro, 86 passaggio, 94 dribbling, 63 fisico, anche qui poco da dire, sarà il solito 5-5, un giocatore fenomenale che sicuramente non potrà mancare nelle nostre squadre. Oblak al sesto posto, al settimo posto, anche lui conferma il suo 91 di rating, si va a confermare come il miglior portiere del gioco la carta base, almeno appunto per quanto riguarda la valutazione, e sicuramente anche qui lo vedremo in moltissime, moltissime squadre. Kane arriva a prendere 90 di overall, 70 di velocità, 91 tiro, 83 passaggio, 83 dribbling, 83 fisico, qui onestamente vale un po' il discorso di Lewandowski, ma comunque non è che ha ricevuto questo gran boost in velocità, quindi Kane rischia di essere il solito attaccante così che si è aggrated, ma purtroppo poco ci facciamo. Kanté riceve un grandissimo boost e arriva a 90 dopo l'eccezionale stagione coronata dalla vittoria anche della Champions League, 78 di velocità, 75 passaggio, 82 dribbling, 87 difese, 83 fisico, una carta questa pazzesca, che ovviamente sarà stra 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 spammata in tutte le squadre competitive, costerà anche tantissimo, però Kanté, il solito folletto del centrocampo, recupera palloni che non può mancare. Neuer e Ter Stegen si appaiano a quota 90, insomma, ci sta un gradino sotto Oblak, secondo me, al momento entrambi, quindi confermano quelle che sono le loro valutazioni degli ultimi anni. Sulla seconda pagina abbiamo un downgrade a sorpresa per Salah, perché comunque la sua stagione l'anno scorso l'ha fatta, e Liverpool, se è stato un po' sottotono, certo non è stato per colpa di Salah, ma per l'assenza di Van Dijk, prende un decremento di velocità a 90, 87 tiro, 81 passaggio, 90 dribbling, 75 fisico, comunque un'ottima carta di Premier League, nonostante avrà comunque il solito problema del piede debole. Donnarumma, che vola al PSG e riceve un bellissimo boost, perché arriva a essere il quarto portiere del gioco con 89. Benzema, anche qui, sale a 89 e ha un discreto aumento statistico, con 76 di velocità, 86 di tiro, 81 passaggio, 87 dribbling, 77 fisico, quindi anche questa è una carta che potrebbe ritornare interessante. Van Dijk, anche qui, perde un punto di overall, vista la stagione che l'anno scorso ha passato da infortunato, però comunque le statistiche mi sembrano discrete, il 78 di velocità, il 91 difesa e l'84 fisico, toccherà vedere se i filtranti saranno così importanti e quindi avremo bisogno di difensori estremamente veloci. Abbiamo poi Kimmich a quota 89 anche per lui, è il mostro finale, ragazzi. Hong Min Son, 89 di rating, 88 di velocità, 87 tiro, 82 passaggio, 86 dribbling, 69 fisico, ora che quest'anno sono le 5-5, questo sarà il terrore dei Sette Mari. Questo è clamoroso. Questo ve lo ritroverete ovunque ad alto livello, ma anche a medio livello, penso che quasi tutti andranno a puntare su Son, che diventa all'esterno sinistro sicuramente più forte in Premier League, visto che è l'unico che ha 5-5. Abbiamo poi Allison che da 90 passa a 89, Courtois che si riconferma, Casemiro che guadagna un punto di overall, ma poco a livello di gameplay, visto il 65 di velocità, Ederson 89, Mané 89, anche qui la perdita di un punto. I giocatori a Liverpool risentono un po' tutti della stagione sottotono degli ex campioni d'Europa, però comunque anche qui una carta di tutto rispetto, con 91 velocità, 83 tiro, 80 passaggio, 89 dribbling, quindi un giocatore che comunque sarà super, super, super competitivo. Passiamo adesso da quelli che sono stati invece i migliori giocatori di FIFA 22, a quelle che sono le squadre partner di EA che hanno rilasciato i propri overall. Quindi abbiamo ad esempio il Chelsea, dove abbiamo già visto Kanté, abbiamo Luca Cone, che quest'anno secondo me potrebbe essere veramente uno dei top attaccanti, con 84 di velocità e 87 tiro. Sarà contento, visto che era sempre triste per le sue versioni troppo lente, a suo dire. Giorginio, che purtroppo ha 55 di velocità, Tiago Silva, che è da 85 ma con 53 di velocità, il buon Werner che continua ad essere forte solo su FIFA, visto che nella realtà continua a sbagliare l'impossibile. Avers, 84, con 82 di velocità, 79 di passaggio, 78 tiro, nonché 84 dribbling potrebbe essere interessante. Zizek, Mount, anche qui per Mount un bel boost. Mendy, un bel portiere questo, se dovesse rispiecchiare le reali prestazioni, insomma questa è una carta di tutto rispetto. Kovacic, 83, Rudiger, 83, con 75 di velocità. Questa carta costerà un po' troppo all'inizio, secondo me. Saul riceve un bel downgrade, se ne va 82 con 71 di velocità. Abbiamo poi a Spicuileta, 66 di velocità, quindi un po' inutile. Pulisic, 82, Chilwell, James, 81, quindi bel boost anche per James, Christensen, Kev, Alonso, eccetera, eccetera, qui sono tutti i giocatori abbastanza, abbastanza così. Passiamo al Dortmund, dove ovviamente spicca su tutti l'incredibile boost di Haaland, con 89 velocità, 91 tiro, 88 fisico, 80 dribbling. Qua tocca vedere delle skill e piede debole, perché anche per Haaland potrebbe essere arrivato il momento della redenzione. 86 per Hummels, totalmente inutilizzabile. Royce, 85, poverino, 73 di velocità. Gli hanno tagliato un piede e quindi mi sa che purtroppo Royce non vedremo tanto utilizzato. Guerreiro, da terzino, con 75 di velocità, con 84, un po' così. Witzel, 61 di velocità, niente di che. Kan, il solito buggato di inizio gioco, visto che c'ha tutte le statistiche al suo posto. Torganazardo, 82, Brandt, 81, Burki. E il nuovo entrato Malen, che arriva in Bundesliga e c'ha una carta non male, 90 di velocità, non Malen, haha. 90 di velocità, 83 di dribbling, 79 di tiro. Insomma, una carta che assolutamente può essere utilizzata, soprattutto nelle squadre iniziali. Akanji, il solito buggato, con 81 di velocità in difesa. Bellingham, ma anche qui una cartina interessante. 75 velocità, 73 passaggio, 80 dribbling, 75 difesa, 77 fisico. Abbiamo poi Cobel, Dauditz, Zagadu, Reina. Insomma, queste tutte carte abbastanza così, che completano solo la squadra. L'Inter, saranno contenti i tifosi di Milano, con Correa, che si candida a essere il solito attaccante iniziale di molte squadre Serie A, con 84 di velocità e 75 tiro. Vidal, un po' troppo lento. Bastoni, lentissimo, Sensi, niente di che. Sanchez, depotenziato un botto. D'Ambrosio, che diventa difensore centrale. D'Armian, anche qui troppo lento. Vesino, Collarov, Gaiardini, Di Marco. Ma il grosso viene qua, perché abbiamo un incredibile Skriniar con 80 di velocità, 87 difesa, 84 fisico. Rischia di essere veramente, veramente buggato. Andanovic prende un downgrade e va a 86. Lautaro diventa 85 con 84 velocità e 81 tiro. De Vrij, anche qui, 85 con 72 di velocità. Nicolino Barella passa 84. E Stats, paurose anche per lui, perché abbiamo 78 di velocità, 79 di passaggio, 86 dribbling, 75 di difesa, 78 fisico, gran carta. Brozovic, niente di che. Dzeko, 83, conferma, ma diventa addirittura oro non raro. Cialanoglu, oro non raro, 82. Eriksen, che sarà presente sul gioco, speriamo si rimetta presto. Danfries, la new entry con 80 di velocità. E il buon Perisic, 81, quindi anche qui magari un po' lentino. Abbiamo poi le statistiche del Benfica, dove onestamente ci sono i soliti Grimaldo, Rafa, insomma, che magari spiccano un po' su tutti. C'è Vertonghen, che recupera un po' di velocità. Spicca su tutti Pepe, raga. Pepe negli overall del Benfica. Ma da quando Pepe c'ha 80 di velocità? Ma forse Pepe Prime, negli anni d'oro. Boh, gli hanno fatto una carta pazzesca, Pepe. Questi poi sono tutti gli altri overall del Benfica. E concludiamo con quelli che sono gli overall del Manchester City, dove abbiamo De Bruyne, Ederson, Sterling, Ruben Dias, che passa 87, ma riceve un depotenziamento di velocità clamoroso. Marets, 86, Bernardo Silva, 86, Laporte, 86, il solito Walker con 92 di velocità, Cancelo con 85 di velocità, che gli viene un po' abbassata, però passa 86. Gundogan, 85, Rodri, 86, Foden, 84, una bellissima carta. 84 velocità, 80 passaggio, 87 dribbling e 78 tiro. Grealish, bel boost a 84, però 80 di velocità mi sembra un po' pochino. C'è il solito Gabriel Jesus, a 84 di velocità, 81 tiro con 83. A che baggatone iniziale con 76 di velocità. E poi abbiamo Ferran Torres, che magari può essere un discreto esterno. A questi poi ci sono, si vanno ad addizionare alcuni overall che sono stati pescati, destra e sinistra. C'è un Heather Militao pazzesco, con 82 di velocità. Un Marco Siorente, raga, che c'è delle statistiche insensate, che vi faccio vedere al volo, recuperandole dalle mie storie, perché ieri l'ho pubblicato, raga, 88 velocità, 80 tiro, 81 passaggio, 82 dribbling, 78 difese, 82 fisico. Raga, è un Gullit Gang, una carta totalmente senza senso per Marco Siorente. C'è che sì, 84, te 84, però poi con il rilascio del database vedremo più nel dettaglio quelle carte. Passiamo invece a quello che è il discorso Icon. Il discorso Icon che ha visto appunto tre delle nuove quattro rivelate, e che carte, raga, se vi posso dire. Perché finalmente viene rilasciato per me un vero terzino all'interno del gioco Icon, Pendolino Cafu, raga, Pendolino Cafu, ma non vi salgono le feels. Guardate lì che giocatore. 88 la Baby, 90 la Mid, e 93 la Prime, raga. Questo, secondo me, sarà bello presente in... in alti livelli, perché... A parte che giocatore era il Pendolino. E poi, insomma, la Prime c'ha 92 di velocità, 85 di passaggio, 88 dribbling, 91 difese, 86 fisico, quindi tutte statistiche messe... messe lì al posto giusto. Casillas, anche lui, diventa Icon, insomma, qui sarà da vedere se diventerà anche lui il portiere dei pro, o niente da fare per Casillas, che sarà il solito portierino Icon, che a niente servirà. E Robin Van Persie, che onestamente non mi aspettavo, ma c'ha veramente delle belle carte. Guardate lì la Baby, 87 velocità, 89 tiro, 84 passaggio, 90 dribbling. La Mid, 83 velocità, quindi un po' più lento, ma 92 di tiro, quindi praticamente infallibile. E poi abbiamo la Prime, con 85 velocità, 94 tiro, 87 passaggio, 90 dribbling, 74 fisico, quindi una via di mezzo tra le due, probabilmente, quella più completa, perché non solo è rapida, ma c'ha anche un tiro assolutamente devastante, che lo piazzano ad essere uno dei migliori attaccanti, se dovesse avere anche un discreto numero di piede debole e stelle schilla, anche se secondo me questo sarà il classico 4-3 che un po' ci fa storcere il naso. Quindi raga, per questo video fondamentalmente è tutto, fatemi sapere nei commenti che ne pensate dei rating, se ritenete giusto che Messi sia meglio di Ronaldo, Ronaldo addirittura terzo, sotto anche a Lewandowski, fatemi sapere anche degli altri cosa ne pensate, se siete d'accordo con queste nuove icon, e chi pensate possa essere la quarta. Come al solito, io vi auguro una buona giornata, un salutone al vostro Riberoski e ci ritroviamo qui con un prossimo video nei prossimi giorni. Ciao ciao!